E' da parte di Queenie Hennessy. E' ricoverata. Le sto scrivendo una lettera, ma forse non è abbastanza. Io esco. Il tempo di spedire la lettera. Anche mia zia era molto malata. Non si arrenda. Abbia fede. Ma è tutto qui dentro. E tua zia è guarita perché tu avevi fede? Diceva che le davo speranza. Ho un messaggio per Queenie Hennessy. Le dica che sta arrivando Harold Fry. Finché continuerò a camminare, lei vivrà. Sì, attento! Harold! Ormai cammino da tanto. Da qui alla Scozia? Ma certo, cosa vuoi che siano 800 chilometri? Hai visto i giornali? Tutti parlano di te. Sono tutti così gentili. Hai bisogno di un passaggio? No, grazie. Ho fatto una promessa. Quello che sta facendo è bellissimo. Hai preso un cane. Hai ridotto male, come me. So che ora sei un pellegrino, ma vorrei che tornassi a casa. Ho passato la mia vita a non fare niente. Ma ora ho trovato uno scopo. Chiunque può fare quello che faccio io, rinuncia a ciò di cui credi di aver bisogno. Harold non è andato via da te. La verità è che Harold è andato via da me 25 anni fa. Sono innamorato di Morinne. Sto attraversando l'Inghilterra per salvare un'amica. Non ho potuto salvare mio figlio. È stata la fede a spingerti a fare questo viaggio. Ti amo, Harold Fry. No. 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 Autore dei sorrisi